Siamo alle qualità, facciamomi i due giri Siamo alle qualifiche, magari senza entrare dentro un tipo Vedo Sta mappa Magari guardalo A parte che è strano il terreno Ah no, ho capito che mappa Però è strano il terreno, non era più Ok è la stessa mappa ma rifatta Io non lo so Io non lo so Però è Non c'è La stessa c'è del rumore fuori Chi viene da fuori però Non c'è del rumore Ok vediamo Oddio ma qua c'è la curva E' che si vede male questo terreno Così alle luci sopra Mi piaccia sta notte tanto Non mi fa impazzire Vediamo che l'ultimo giro di qualifiche Se si levasse questo Ok Ok A parte che si sprofonda Non mi fa impazzire E' arrivato Ti potresti elevare Oddio E qua sta curva Non ci vede Eh Torniamo ai box Ho sbagliato Torniamo ai box E termina la sessione E termina la sessione Ok E noi ci vediamo Alghietto Ok eccoci qui Allora vediamo di fare questi Ok 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 A partenza sempre si intarda Delle mie Oddio non c'era la curva qua Eh Non conosco bene ancora Sto mappa non l'ha Non l'ha capisco ancora Anche bene Sì Mi spingetemi Mi raccomando Sempre a voi E basta Però C'è Ricordate dove finisco L'ultimo L'ultimo mai arrivato C'è mai Stato Tranne che Vabbè Lì nelle cose Però la prima curva Poi Assurdo Ebbè Ma cos'è Ma basta Ma cos'è Ma cos'è Ha fatto bene La curva Cioè mi sto giocando l'ultima e la penultima posizione, in questa gara non ho capito, e solleviamoci, e adesso non mi provo. No perché è l'ultima e penultima posizione, se la gioco per qualcun altro, non io, in questa gara, in tutte le altre, 10 posizioni, eh non so parlare, volevo dire 10 posizioni recuperate, ma adesso siamo a 6 posizioni. 10 posizioni recuperate, eh va bene, non siamo più a 16 ma a 15, ma vedevo peggio, beh già ripreso, scusa, però non mi sembra giusto, perché è tutto sto mucchiamento, questa gara? Cioè c'è gara, non è proprio la gara questa però, ma neanche a 2 minuti io sono ancora sesto, devo peggio sinceramente, però non va neanche bene sesto. Ma basta buttarmi per terra, cioè come faccio a recuperare se mi lanciano via tutti? 3, 2, 2, e adesso si parte e si fa recuperare con gli autoslud il primo. Non è che lo vedo, non è che lo vedo, eh vabbè, già mi fanno cadere, poi fanno anche io, lo vedo molto vicino, non è che lo vedo molto, non lo vedo proprio il primo. No, sinceramente questa gara da CERSTIC PIT li ho un po' buttati, vabbè, guarda però, si sputi in mezzo, è infatti video sta... Oh, cadiamo un'altra volta stavolta, beh, siamo a seconda e altra volta, adesso devo ritrovare il primo, ma è a 12 secondi, vabbè, è colpa di tutti sti rincoroniti che mi buttano giù, e neè, mi cado da solo. 10 secondi, ecco l'ho, l'ho rivisto finalmente, vediamo se, ecco se può colore per recuperare. Eh, io sta curva qua non la riesco a far bene, no, non ce la faccio mai più in 30 secondi, due giri, non ce la riesco. Però 8 secondi sto recuperando vuol dire che vado più io, mi lasciano stare gli altri. Sì, vedo come sto vedendo adesso, proprio, un po', decentemente. 7 secondi sto recuperando vuol dire che vado più su questo, i 12 secondi di prima. Eh, però 2 giri al termine non la vedo difficile farlo. Eh, calma, l'ho impegnato troppo in aria. Non ho capito. C'è una buccia di banana? Che palle però. Vabbè, mi accontenterò della seconda posizione. Che ti devo dire. Ah, un altro, c'è scritto ultimo giro. Ah, era l'ultimo giro del tipo, forse, del primo. 10 secondi. Ero a 7. Eh, non ho capito adesso perché è caduto, però. Vabbè, in lontananza, 11 secondi, ho ripreso. Avevo preso, tre, cinque secondi, su quello, li ho riparsi praticamente tutti. Mi faccio i miei complimenti. Eh, dai, li ho riprendi, li sto riprendendo, poi ho fatto la curva stavolta, anche senza un ritardo. Bene. Bene. Va bene. Ok, secondo. Boh, te lo faccio la posizione. Vabbè, dai, io. Tu posso accedere. Vabbè. Grazie a tutti.